Quando la natura e l'uomo collaborano per rendere un territorio più ricco e affascinante di quanto non sia già, quando l'uomo scopre che nella natura c'è scienza, quando cerca emozioni nella natura stessa. Una pietra diventa più che materiale da costruzione o un baluardo difensivo. Crea un legame con chiunque cerchi su di lei un'emozione. Iniziamo il viaggio. Il passato. Il presente. Il futuro della pietra. Si incontrano.